buongiorno a tutte buongiorno marzia buongiorno stefania buongiorno paola allora oggi iniziamo a raccontarvi e a parlare in maniera un po più approfondita della parte pratica realizzata all'interno del contributo che il dipartimento 06 che fa parte del forum nazionale per l'educazione musicale ha redatto fortemente connesso ispirato alle linee pedagogiche del sistema integrato 06 che sono state pubblicate nel febbraio del 2021 se volete saperne di più dovete rimanere connessi prestissimo